Con il mese di agosto alle spalle, è tempo di bilanci per il turismo della nostra amata città. Se le periferie si sono svuotate per l'esodo estivo dei romani, le vie e le piazze del centro non hanno avuto lo stesso destino. Ancora in aumento i flussi turistici e le permanenze a Roma. I dati appena diramati dal Comune parlano di oltre 6 milioni di turisti approdati a Roma nei primi sette mesi dell'anno, un bel più 6% rispetto allo stesso periodo del 2013. A farla da padroni i turisti statunitensi, a seguire inglesi, francesi, cinesi e russi. Il Colosseo e i musei vaticani sono certamente i must imperdibili per chi arriva in città, molto gettonate anche le ville storiche e, perché no, un bagno nei lidi del litorale. L'effetto del Papa Francesco ha sicuramente dato uno slancio agli arrivi dei fedeli, soprattutto del centro e Sud America. Il fascino della città eterna sembra quasi non perdere un colpo rispetto al turismo globale che non conosce ostacoli e confini.